Proporre nuove idee di sviluppo per l'economia del territorio incrementando iniziative nel settore trainante, l'olivicoltura, punto di forza dell'economia vetranese. Con questa finalità Rilanciamo Avetrana insieme a PS ha tenuto un incontro per presentare il libro Oleoturismo, opportunità per imprese e territorio. Crediamo nello sviluppo del nostro territorio, l'olivicoltura potrebbe essere una risorsa che effettivamente può portare tanti vantaggi sia nel settore turistico che nel settore produttivo proprio, quindi crediamo in questo e abbiamo scelto questo itinerario. Il libro, voluto dal già senatore della Repubblica Dario Stefano, padre della norma sull'oleoturismo, è una guida utile non solo per i produttori olivicoli che vi possono trovare indicazioni e idee su come sviluppare la propria attività, ma anche per tutti coloro che sono interessati a mettersi in viaggio alla scoperta dei territori in cui l'olio d'oliva si produce, alle aziende già attive nel settore oleoturistico con musei, frantoi, poggei e per conoscere i produttori e partecipare a degustazioni, iniziative in paesaggi e borghi di rara bellezza. L'oleoturismo è un asset ormai che muove una domanda di turismo esperienziale che vive l'idea della vacanza come una modalità per vivere esperienze, emozioni. L'olio, come tutta l'enogastronomia in generale, rappresenta una grande chiave di successo in questo senso e certamente in un territorio come il nostro nel quale l'olivo e l'identità rappresentano una chiave per arricchire l'offerta turistica, qualificarla, ma anche per dare un'opportunità alle imprese olivicole che oggi sono certamente violentate dal tema della xylella per poter integrare, per poter sostituire il reddito dell'attività che un tempo era quella principale con un reddito che si qualifica per la capacità di raccontare una tradizione, una storia, un territorio che certamente oggi è violentato dalla xylella ma che però resta un territorio vocato a quella cultura, a quella storia, a quella tradizione. Quindi è evidente che l'olio turismo non è un tema che noi possiamo vivere in una dimensione esclusivamente salentina perché è una dimensione nazionale, ma nel Salento può trovare una chiave di declinazione diversa proprio per superare un tema grande sul quale probabilmente non siamo stati in grado di interpretare il ruolo che la classe dirigente avrebbe dovuto interpretare e che oggi però ha la necessità di provare a continuare a camminare e questo territorio ha la necessità di continuare a camminare. L'oleo turismo al di là dell'axylella può diventare uno strumento di qualificazione dell'offerta turistica raccontando una tradizione che oggi vive questo processo delicato di essiccazione degli alberi, di essiccamento però resta inchiodato ad una tradizione, ad una cultura, ad una storia che è nostra e della quale non vogliamo liberarci. Cosa troverà il lettore in questo libro? Trova il racconto di una norma che finalmente siamo riusciti a conseguire e che consente all'operatore di fare oleo turismo senza incorrere a sanzioni amministrative o fiscali e poi racconta tutta una serie di buone opportunità che l'oleo turismo offre in termini di esperienze sul campo nazionale quali sono i luoghi che da questo punto di vista possono essere non solo da esempio ma possono anche essere in qualche modo emulati perché l'oleo turismo si veste di luoghi, di identità e qui ne raccontiamo un po'. Ad introdurre i lavori la relazione dell'agronomo dottor Giuseppe Conte che ha fornito un quadro della situazione sia dal punto di vista tecnico che rispetto alla normativa europea indicando luci e ombre del settore ma anche possibili soluzioni. Il futuro di questo settore ad oggi ha ampi margini di miglioramento sicuramente si deve fare tanto ma sicuramente non ci vuole soltanto la mano degli olivicoltori nostrani ma ci vuole proprio una mano dall'alto devono arrivare dei fondi assolutamente per cercare di rigenerare quanto più possibile un territorio falcidiato da questa epidemia e cercare di renderlo soprattutto competitivo perché appunto non si può più pensare di fare olivicoltura non basta rigenerare e cercare di fare un'olivicoltura come si faceva un tempo bisogna creare meccanismi più competitivi improntati appunto comunque alla sostenibilità che stiano attenti all'ambiente perché è questo che l'Europa ci chiede sicuramente dobbiamo fare attenzione a rigenerare il territorio dobbiamo cercare di cooperare tutti insieme perché io come ho ribadito anche nel mio intervento da soli purtroppo non si può più correre non si va da nessuna parte se ognuno guarda il proprio orticello però credo che si possa fare tanto mi auguro che tutto ciò che si dice possa in qualche modo avverare l'olio turismo rientra nell'insieme di tutte quelle attività che possono rappresentare un'opportunità per il nostro territorio ma deve essere fatta in maniera oculata sempre presenti i numerosi esperti addetti ai lavori che hanno fornito il proprio contributo all'iniziativa c'è bisogno di coniugare questa iniziativa molto importante intraprese dal senatore Stefano sull'olio turismo però bisogna coniugarla con una realtà difficile che in questo momento si chiama Xilella noi dobbiamo avere la capacità di intravedere queste iniziative come quella sull'olio turismo come una diversificazione, come una potenziale risposta ai problemi e alle difficoltà che le aziende olivicole stanno registrando in questo momento teniamo presente che qui purtroppo con questo dramma della Xilella si è depauperata un patrimonio ultramillenario di questi monumenti ancorché alberi sono dei monumenti però dobbiamo avere la capacità di fare squadra tutti insieme per trovare tutte quelle possibilità di sbocco e di diversificazione che consentano alle aziende di poter rilanciare la propria attività Storicamente Avetrana è stata sempre un grande produttore di olio si vedono dai tanti trappeti pogei presenti nel centro storico di Avetrana la tradizione e la storia è rimasta nella comunità nell'economia di un territorio la Xilella sta minando questa grande tradizione olivicole e olearia del territorio parliamo di tutta la filiera dalle aziende agricole fino ai frantoi fino alla commercializzazione di oli di alta qualità potrebbe essere una grande opportunità per il territorio un territorio resiliente che con uno scatto di reni riesce a ripartire e ad immaginare una nuova olivicoltura basata sulla valorizzazione e questa grande opportunità dell'eoloturismo porta anche le piccolissime aziende a fare rete a portare i turisti all'interno delle proprie aziende e farli dimostrare anche attraverso la raccolta dell'alive o una fase della produzione all'interno dell'azienda farli capire come si produce un grande olio extravergine quanto lavoro c'è bisogno per tirare fuori questo grande prodotto della dieta mediterranea e l'olio turismo secondo me in questo periodo storico molto particolare può dare uno slancio al post xylelle questa dell'olio turismo è solo una delle tante iniziative dell'associazione rilanciamo a vetrana insieme a PS si sta già iniziando a lavorare per le iniziative della prossima estate quest'estate come già l'anno scorso rifaremo su The Food quest'anno avremo la presenza dei Su Sound System, Festival degli Artisti di Strada e Deborah Forti è un evento che è ben visto nel territorio tant'è che avremo la partecipazione anche di tante cantine cantine rinomate come Cantele, Felline tante tante novità ancora non le svelo tutte adesso se no poi perderemo il gusto dell'evento grazie